Bisogna riconoscere una cosa, gli avversari sono stati nettamente più forti oggi, soprattutto davanti. Hanno veramente faticato nel riuscire a contrastarli. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? La loro sconfitta ha diverse spiegazioni, ma concedere quel gol all'inizio è stato sicuramente determinante. Ci sono sbilanciati e non hanno più saputo riprendere in mano la gara. La nostra telecronaca termina qui. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie Fabio, alla prossima!